Uno dei personaggi più particolari introdotto in Senza Yasuo Vogold, paradossalmente è un Asgardiano, e si tratta di Sigmund, Sigmund di Grani, che scopriamo essere addirittura il fratello maggiore di Orion. In effetti il legame di parentela è evidente dai nomi, visto che il nome originale di Orion e Siegfried, e Siegfried e Sigmund erano compagni nel mito germanico. Ora, Sigmund viene introdotto abbastanza presto nella serie e esteticamente ricorda molto Orion, con lo stesso colore di capelli e una pettinatura molto simile. La sua storia viene poi rivelata un po' andando avanti, ma un'altra cosa interessante da notare è la sua armatura. Infatti il simbolo di Sigmund è Grani, Grani è uno dei cavalli del mito nordico, e infatti la sua armatura ricorda molto quella di Artax, decisamente più di quella di Orion stesso. Il passato di Sigmund è abbastanza particolare, viene incastrato retroattivamente nella storia di Asgard, e non sempre in maniera funzionale. Non sempre in maniera funzionale perché è chiaro che si tratta di un passato inserito a posteriori. Visto che Sigmund non viene assolutamente mai citato da Orion in nessun modo durante la serie classica, ne lo si vede mai nei flashback. Ma la storia di Sigmund è quella di questo vavoroso guerriero di Asgard, fratello maggiore di Orion, e in teoria destinato a ricevere lui l'armatura della steva alfa. Il motivo non è di forza ma dinastico, in quanto fratello maggiore, presumibilmente primogenito, Sigmund aveva più diritto all'armatura rispetto al fratello minore Orion. Questo è qualcosa che contraddice abbastanza quanto visto nella serie classica, dove Orion era a fianco di Iuda, già in parecchi flashback precedenti, poi la guerra contro i cavalieri di Atena, ed era sempre stato dato a intendere che fosse già dall'inizio il paradino il protettore di Asgard. Cosa che tra l'altro è quello che dice anche Frale, quando parla di Ui, quando ci sono i flashback, che poi in realtà non sarebbero neanche flashback, perché in originale si vede il Siegfried originale uccidere il drago, mentre nella versione italiana sono flashback dell'addestramento di Orion. Ma fatto sta che, indipendentemente dalla versione, che Orion in originale fosse il paradino di Asgard è qualcosa che era abbastanza chiaro. Invece, secondo Sue of Gold, il predestinato dovrebbe essere Sigmund, se non che Sigmund, insieme ad alcuni soldati, era presente quando Iuda venne attaccata improvvisamente dallo spirito di Nettuno e soggiogata con la nevo del Nibelungo. Sigmund e questi soldati cercano di intervenire, ma un non solo sguardo di Iuda rimette tutti quanti KO, e quando Sigmund si risveglia, si trova nelle prigioni del palazzo. Paradossalmente, questo vuol dire che Sigmund era presente, proprio come era presente Magres, che nella serie classica assiste alla sottomissione di Iuda, solo che mentre Magres si fa i fatti suoi e rimane a guardare, Sigmund, che è comunque fedele veramente ad Iuda e ad Asgard, prova ad intervenire, avrà peggio, e viene imprigionato. Essendo stato imprigionato, probabilmente dichiarato per morto, Sigmund non prende parte per niente alla guerra tra Asgard e i cavalieri, e l'armatura va al suo fratello Orion. In seguito, sempre in prigione, Sigmund viene a sapere della morte di Orion, avvenuta durante la battaglia con i cavalieri, per via del sacrificio contro Siria, come sappiamo. A questo punto, Sigmund sviluppa un odio profondo verso Atena, verso i cavalieri di Atena, e giura di, in qualche modo, vendicarsi e vendicare la morte del fratello alla prima occasione. Non viene mai detto da dove provenga l'armatura che Sigmund indossa, visto che, in teoria, Will è destinato a quella di Orion, a questo punto da dove vengano queste armature di riserva non si sa. Ma, in qualche modo, gli viene data questa armatura di grani che è armata dello spadone Gram, una spada a più ame che poi, in realtà, Sigmund usa abbastanza in battaglia, ma mai con buoni risultati. Sigmund ha il suo momento di gloria durante il regno di Andreas Riese. Andreas che, prima di essere posseduto da Loki, probabilmente, è anche con lui che si prese cura di Sigmund quando era imprigionato, curò le sue ferite, e lo informò di quello che era successo a Dorion durante la guerra contro Atena. Ma, quando Sigmund viene posseduto da Loki e ascende a potere, quando Andreas viene posseduto da Loki e ascende a potere, Sigmund diventa uno dei suoi nuovi cavalieri di Asgard, e si contraddistingue, lungo durante la saga, per questo odio profondo contro i cavalieri di Atena. Infatti, sin dal primo momento, cerca di scendere in campo, è sempre molto aggressivo, non vuole perdere tempo a parlare, e il suo obiettivo è far fuori i più nemici possibili, e che lo pone anche un pochettino in contrasto con Surtr, che invece è più machiavellico, preferisce pianificare, tendere trappo e così via. Sigmund è decisamente uno per l'approccio diretto. Sin dalla sua prima apparizione, Sigmund crea una certa rivalità, in realtà più da parte sua, con Saga di Gemini, e i due poi finiscono per scontrarsi durante la fase clou di Soul of Gold, quando Sigmund diventa il difensore di Niferheim, della Sala delle Nebbie, e proprio Saga è il cavaliere che viene, per caso in realtà, inviato lì a distruggere quella sala. Ora, la battaglia tra Saga e Sigmund è totalmente a senso unico, non c'è storia. Saga lo annichilisce sin dal primo momento, senza neanche impegnarsi molto, e Sigmund sembra totalmente in baria del nemico, finché poi l'armatura di Orion non compare a difenderlo, proteggendolo dall'espulsione galattica di Saga, il che tra l'altro fa pensare che le armature dei cavaliere di Asgard originari siano molto, ma molto più resistenti rispetto a quelle dei nuovi cavaliere di Asgard, visto che riesce a parare, senza nessun danno, un'espulsione galattica di Saga, come se niente fosse. In questo momento compare lo spirito di Orion, e lo spirito di Orion invita Sigmund ad abbandonare questo odio che lo attanaglia, a scendere a più miti consigli, se vogliamo. Qui si evidenzia molto la differenza tra i due personaggi. Laddove Sigmund è totalmente in baria di questo astio verso Atena, Orion, sin dalla Siria classica, è sempre stato un personaggio più pacato e più in grado di pensare. Orion è sicuramente un guerriero orgoglioso, fiero e così via, però è anche un guerriero che durante la battaglia con i cavaliere di Atena nota e ammira lo spirito di sacrificio di Sirio, per esempio, o il regame che unisce gli avversari, fino progressivamente, come sappiamo, a abbandonare l'idea che i cavalieri siano dei semplici invasori, a voler testare le cose per mano sua, e quando vede che effettivamente le cose stanno come dice Pegasus, Orion non esita a schierarsi dalla loro parte. Sigmund, quindi, pur essendo il fratello maggiore, fa la figura di quello meno maturo e più impulsivo dei due. Ora, va detto che noi non sappiamo niente di come fosse Sigmund prima della morte di Orion. È possibile che il trauma della morte del fratello abbia un po' modificato la sua personalità, rendendola così aggressiva. Per un po' i nuovi zaffiri di Odino, che sono stati creati dalla Fafnir, e in qualche modo manipolano chi lo indossa, prende il possesso di Sigmund, lo fa avvolgere ancora di più nell'odio, nel desiderio di guerra, ma molto rapidamente Saga disintegra Zaffiro e qualche resta dell'armatura di Sigmund con l'espressione galattica, e da questo punto in avanti il cavaliere di Asgard smette di essere un nemico. Infatti poi lo rivediamo negli episodi successivi verso la fine, quando va a proteggere e raggiungere Irda contro i servitori di Loki, e poi nelle ultimissime immagini è uno dei sopravvissuti, insieme a quella maggior parte, in realtà quattro dei nuovi asgardiani su sette sopravvivono, lui è uno di questi quattro, e inizia ad addestrare nuovi guerrieri di Asgard nelle scene finali della serie. Quindi è un personaggio che, a differenza del fratello, sopravvive al conflitto contro i cavaliere di Atene. Ora, dal punto di vista della personalità, Sigmund, tutto sommato, non è male, ma il suo inserimento nella storia di Asgard crea più problemi di quanti ne risolve. Sicuramente serve a creare un parallelismo tra queste due coppie di fratelli, Orion e Sigmund da una parte, Saga e Canon dall'altra, e infatti, durante la battaglia, Saga, come fratello maggiore, ripensa di tanto in tanto a fratello minore Canon. Però è un regame abbastanza tirato per i capelli, e il fatto che Sigmund non sembri mai in grado di applicare praticamente tutte le minacce che grida, lo fa passare come più un personaggio arrabbiato e disilluso, che non come una vera minaccia per i cavalieri di Atene. Non si ha mai la sensazione che Saga possa essere messo in difficoltà da lui. Quindi l'idea del personaggio magari non è neanche male, ma la sua gestione sì. Tant'è vero che probabilmente sarebbe stato meglio dargli un background totalmente autonomo, renderlo indipendente da Orion, e magari cercare di creargli una personalità che fosse la sua e non la conseguenza di qualcos'altro. Fatto sta che, ovviamente, gli autori hanno cercato di corregare una nuova serie il più possibile la vecchia, e così abbiamo questo personaggio. Secondo me non regge assolutamente il confronto con Orion da nessun punto di vista. Estetica, forza, carisma, personalità, in tutti gli aspetti, Orion gli è superiore, e per fortuna Sigmund stesso ammette nel corso della serie che Orion era migliore di lui in tutto, quindi se non altro c'è una certa ammissione di colpa. Però, fatto sta che il personaggio non è proprio riuscitissimo. Voi cosa ne pensate? Vi piace Sigmund? Vi piace il suo regame con Orion? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!